Giovani e bravi, il primo parrucchiere italiano low cost di qualità. Sorprenditi, è possibile, è innovativo, è il futuro. Giovani e bravi ti offre la stessa opportunità, la cura della tua bellezza spendendo meno con le stesse garanzie di sempre. Siamo pronti a vincere ogni tua tisubanza e a soddisfare con la qualità le esigenze estetiche dei tuoi capelli a costo accessibile, garantendo tutti i requisiti di professionalità. Tutto è cambiato e noi siamo i primi ad essercene accorti. Ti aspettiamo, provaci e sorprenditi, ti costa meno. Giovani e bravi, Taranto in via Liguria 76D